sono le prime azioni disponibili definite anche dagli user dei forum particle action e che costituiscono gli event potremo dividerli per categorie in base alla loro influenza sulle varie proprietà come ad esempio la posizione al materiale alcuni di essi sono fondamentali per l'elaborazione di un sistema altri sono un surplus che risultano molto comodi in determinate situazioni di fatti troviamo position icon definisce che la sorgente è collocata sull'icona del p flow source definendo anche il metodo di emissione age volume pivot eccetera position object definisce la posizione delle particles su una geometria e la tipologia di distribuzione ed emissione age volume materiale eccetera eccetera placement paint da utilizzare insieme al bird paint e relativo helper e definisce dove saranno generate dipinte le particles rotation influisce sulla rotazione delle particelle speed questo operatore definisce la velocità e quindi il senso di orientamento delle particles e la divergenza in fase di emissione di conseguenza abbiamo speed by surface definisce la velocità in base ad una geometria speed by icon in base ad un'icona scale permette di modificare il fattore di scala delle particles in particolare a influenza è visibile quando sia applicata una geometria come visualizzazione spin assegna un angolo di rotazione in base alla velocità delle particles stesse forse consente di fare interagire le forze con il sistema p flow interessato shape associa alle particles una forma geometria disponibile nel menu a tendina dei parametri shape instance consente di collegare una geometria esterna non presente tra quelle di default shape facing consente di generare delle particles che siano sempre perpendicolari al punto visivo volendo è possibile anche collegare una determinata camera shape mark genera una mappatura con delle particles sulla geometria assegnata script operator consente di implementare il mass script all'interno dell'evento display determina la visualizzazione in viewport material static permette di associare un materiale che non ha variazioni temporali material dynamic associa un materiale con variazioni temporali come ad esempio un material con una mappa di particle age material frequency associa un materiale con caratteristiche di relativa frequenza con una parvenza molto vicina ad un sub material quindi con un controllo di id gli operator sulle ov per assegnare una mappatura alle stesse non fondamentale ma lo approfondiremo prossimamente come mapping e mapping object gruppo operator consente di creare un gruppo di eventi in base ad una selezione group selection consente di selezionare il gruppo di eventi creato keep apart appartiene alla famiglia degli operatori di speed velocità e consente di applicare una forza alle particles causandone la separazione per prevenire o minimizzare le collisioni tra di esse delete è un'azione che determina la vita delle particles volendo è possibile cancellarla in base alla selezione o completamente cache è un sistema che aiuta a creare un baking delle particles aiutandone la simulazione sia in viewport che in fase di rendering notes consente di aggiungere delle note molto utile in caso di lavori con grandi team o in particolari situazioni renderer è l'operatore che traduce come saranno renderizzate le particles se non e non saranno visibile band in box quindi a box geometry con la loro reale geometria è il sistema di default interessante il fatto che possiamo scegliere tra tre diverse tipologie di resa single mesh considera il sistema come una mesh unica multiplier mesh considera una mesh per ogni particella ma limitandola in base ad un range specifico mesh per particles traduce ogni singola particella in una mesh e la renderizza come tale senza limiti di quantità questo sistema è quello più sconsigliato poiché meno efficiente di tutti ed alcuni motori di resa sono incompatibili con tale modulo phantom è il sistema di calcolo molto simile al nome a prima vista ma in realtà è legato all'utilizzo del mass script all'interno del particle flow